Tu mi porti su e poi mi lasci cadere Tu mi porti su e poi mi lasci cadere Eh, ma tu sei una ballerina, non io Ma zero, lascia perdere Buona terapia Buona terapia mia cara, ben trovata Il fucsio è uno dei miei colori preferiti Sì, oggi ho, diciamo, osato un pochino Ma sì, fa nella vita Come dice Giorgia, bisogna andare su, anche il rischio di cadere o no? Oh sì, quando si cade poi ci si rialza anche più forti Diciamo così, intanto qua dietro c'è un cammino Spero che tu non mi faccia lo spiedo Ieri ho sentito i tuoi autori Santoro, nello specifico Già, Luca Ma di cosa parliamo? Ho detto di tutto ciò che volete Perché va bene così Brava tesoro, ma tanto io solo ogni bene auguro a chi viene qui da noi Quindi solo le cose per il meglio Senti, ballando, togliamoci subito un dente Ti avevi ricordato sui siti che tu ti saresti arrabbiata per questo quarto posto Hai gettato la medaglia? Carità, la medaglia a casa ed è una medaglia che mi porterò nel cuore tutta la vita La medaglia tocca il cuore Quindi quella è una medaglia Tocca il cuore nel senso che la appendi e rimane sul cuore Sì, che rimane sul cuore Ma come posso essermi arrabbiata? Io, Ballando mi ha dato tantissimo Mi ha dato tutto Mi ha dato la lotta quotidiana per ottenere È stato un bellissimo percorso di disciplina Millie è una stella vera in questo Avrei dovuto pagare per far ballando Lo dico sempre No, sul serio Nel senso che si impara tantissimo Si impara tanto E poi è stata un'edizione particolare Ovviamente sotto Covid Per cui ha messo alla prova la resistenza di ognuno Misurarsi con le proprie paure Tu hai avuto il tema della caviglia Vediamo, dai, l'ultima esedizione E quella di sabato con la finale Ti sei scoppiato nel tuo cuore All'improvviso All'improvviso Non so perché No, non lo so perché All'improvviso All'improvviso Sarà Perché non hai guardato Come nessuno Ma guardato mai Mi sento viva All'improvviso Per te Vittoria di Paolo Che quindi è in corsa Per la Coppa Ragazzi Di corso fuori A bordo campo Allora Io devo dire A tutti e due Che siete stati due eroi Perché il vostro percorso È stato di una complicazione Non compreso fino in fondo No, no, no È stato veramente difficile Difficile Per tutto quello che è capitato No, no, no Lo dicevo nel senso che Ogni volta che si ballava Ed era anche evidente Perché aveva una fasciatura Quella non è moda Quella era fascia Non era un calzetto di moda No Che ogni volta che si ballava Dicevano No Però non ha fatto tutti i balli È rimasta ferma Allora Il mio Non compreso fino in fondo È stato semplicemente Perché comunque noi Volevamo dire Che avevamo preparato tutti i balli Anche quello del fermo Avendo saltato un sabato Ma non era polemica Era semplicemente Una chiosa Perché si devono Si devono chiudere anche le cose Peraltro Ha detto una cosa molto intelligente Selvaggia Lucarelli Durante una delle vostre esibizioni Che voi siete stati molto amati Perché eravate proprio una coppia Sì Sì Poi tutti si sono interrogati Se vi frequentavate fuori Se è nato un amore Cosa ci puoi dire Di definitivo Per ora Di definitivo Niente nella vita Ma neanche No Di definitivo No Allora Per ora posso dire questo Che eravamo una coppia Che guardando le fotografie I filmati I balli Mi sono innamorata anche io Di quella coppia Perché c'è bisogno di amore Tanto Nell'accezione totalitaria del termine Tanto C'è tanto bisogno di amore E quindi Guardando me e Raimondo Ma proprio dall'esterno Perché è così Ci si innamora C'è stato feeling Ma molto molto rispetto E colgo l'occasione Per salutarlo Perché veramente Con tutto quello che ci è successo Si è creata anche Una bellissima amicizia Di condivisione E di supporto Perché queste sono le parole Che mi porto a casa Della storia Di ballo con Raimondo Perché questo è stato Quindi continuerete a frequentarvi Secondo te Pensi di Ma allora Prima io Mi aggiusto la caviglia Lui il piede Perché siamo mezzi rotti Mi sono accorta Che anche le rotule Stanno andando così così Perché Giussate Io non avevo mai ballato E' stata No Con Raimondo ci sentiamo E c'è tanto rispetto Questo rimane Va bene Poi Diciamo che Nella vita Abbiamo letto questa cosa È l'incompreso No Io riflettevo Ieri abbiamo sentito No Elisa non mi sembra una vittima Cioè tu non hai mai recitato Quella parte Non ti sei mai Non hai mai voluto Non ti vedo In quella parte lì No Sei sempre una Che appunto Come hai detto appena entrata Se mai sono caduta Mi sono sempre rialzata Sei un po' Finita Scusami Scusami No vai vai Che poi aggiungo un concetto No dico Mi viene in mente mia mamma Che ogni volta Mi chiama E mi dice Mai piangersi addosso Basta Le cose passate Sono passate Una volta che uno Le ha seminate Si va avanti Ma è giusto Quando te l'ha detto L'ultima volta Sempre Anche l'altro giorno Cioè Ma non su ballando È proprio sulle cose Che succedono nella vita Ballando è un'esperienza Meravigliosa Con tutto quello che stiamo passando In questo periodo Cioè la cosa più bella Era vedere ballando sabato sera Andare ballando sabato sera Ci si dimenticava di tutto E poi c'è quella montanara Col tacco 12 Che viene dalle montagne cunesi Il tuo paese di nascita Si chiama Caraglio Non ha nemmeno 7000 abitanti Quando ripensi O pensi a Caraglio Cosa pensi Cosa ti ha dato E da cosa invece Sei voluta fuggire Stando qui adesso A Roma Caraglio È rilancio Monte Rosso Grana E tutta la Valle Grana Perché io abito adesso In un paese Di due abitanti A 1280 metri Sul livello del mare Ed è bellissimo È bello Tanto bello Quanto aspro Quanto duro Quindi veramente Un encomio A chi rimane là E chi riesce comunque A fare una vita lassù Perché è tutto Più difficile Le distanze sono enormi E il tempo è scandito In modo diverso Quindi io da là Niente Che cosa ho fatto Sono andata via A 16 anni Ma col coraggio Di una mamma Che è straordinaria Che ti ha aiutata Che mi ha aiutata Perché peraltro Perché peraltro Andare in montagna Col tacco 12 Come tu dici Di essere Non è proprio semplicissimo Portone Io il tacco 12 Lo metto solo Per venire da lei Devo dire la verità Perché sono Una montanara Con la scarpa A ginnastica Con lo scarponcino Poi effettivamente Nella vita Non metto tacchi Però Hai questo elemento Maschiaccio Ma no Perché Tu rivendichi ogni tanto Allora Realisticamente L'ha Perché Per esigenza Perché Perché i tacchi Non si mettono in montagna Ma il fatto Del maschiaccio È più È più Diciamo una cosa Di responsabilità Provengo da una società Matriarcale Mia mamma Mia nonna Mia madrina Patrizia Patrizia Lucrezia Lucrezia Irma Faccio i nomi Perché Le nonne Le nonne Carolina C'era anche una Carolina Caterina 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 Quella di La mamma di mio papà Che era l'economa della famiglia Ne abbiamo parlato anche qui Sono tutte donne di polso Donne che hanno portato avanti la famiglia Donne che se Quando c'era qualcosa che non andava Non ci hanno pensato due volte Quindi io provengo da questo Questa tipologia di carattere Peraltro i tuoi si sono separati Quando eri ragazzina Ne hai sofferto Non mi ricordo nulla Lì è stata una grande Mia mamma Che non ha mai portato in casa Diciamo le sventure O comunque le cose che Diciamo Di litigio O brutte fra loro Lei è stata veramente E è Una donna fortissima Un grandissimo esempio Ma quindi l'immagine dell'amore Che avevi da ragazzina Qual era? Non era un amore di cocchia Però No Era l'amore di una mamma Di una mamma che aveva una lavanderia E lavorava il sabato e la domenica Come cameriera L'amore di una mamma che Affittava case Perché così Perché abbiamo traslocato tante volte Ma Per seguire gli studi della figlia L'amore di una mamma Che tutti i soldi che guadagnava Li metteva per mandarmi nelle scuole private Per mandarmi dalle suore E per farmi crescere bene L'amore di una mamma che Quando gli ho detto Vado a Roma È riuscita comunque Ad andare avanti Miss Italia Un primo tassello Di una lunga storia Fortunata È bella La numero uno è Miss Valdaosta Elisa Isoar La passione per il teatro Ce l'ho fin da bambina Quindi Proprio l'anno scorso Deciso Abbiamo deciso Con i miei genitori Di trasferirmi a Roma E studiare teatro Ed è stato un anno splendido Perché ho studiato sia teatro Che geometri E quindi sono riuscita in tutti e due i campi Allora Miss Cinema 2000 È la numero uno Elisa Isoardi Complimenti a Elisa Il maestro ha guardato subito Il primo piano di Elisa Per il secondo Anche il secondo piano Ecco Dino Risi premia Elisa Isoardi Un titolo che porta fortuna Anche Anna Palchi Nel 1989 Indossò questa fascia Ministeri Cinema Sofia Loren anche Sofia Loren Sei identica La mamma ti ha dato anche un bel DNA Wow Grazie Guarda questo Di Fabrizio 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 Ricordo tutti Ma pensate la vita Fabrizio era Una persona Che Mi mandava messaggi Di in bocca al lupo Ad ogni prima Di qualsiasi lavoro Di tutti i lavori Che ho fatto Dopo Miss Italia Questo era Fabrizio È incredibile È stato un uomo incredibile In questi anni di carriera Ha più incontrato Più persone come Fabrizio Frizzi Quindi generose o includenti O persone invece negative Ci sono state Tante Tante Buone Tante Negative Negative Ringrazio di più Quelle negative Nel senso Quelle che hanno voluto Mettermi i bastoni Tra le ruote Perché ci sono stati Perché esiste l'invidia Ad esempio Che cosa è successo Ma Fatti avvenimenti Non vado a raccontarli Ma Comunque Ringrazio Ringrazio Chi Chi mi ha Fermata Chi ha potuto Chi non ha fatto Soltanto del bene Ringrazio di più loro Perché comunque Mi hanno dato l'opportunità Di essere Di salire Di andare avanti Di fare un gradino in più Perché servono queste cose Non hai mai sofferto Cioè hai sempre reagito Sei entrata dalla porta Ho sofferto tanto Ho sofferto tanto E Ho sofferto tanto Ma Ma serve anche quello Serve anche quello Perché non È retorica La frase Si legge Spesso E ovunque Però Però quando la fai tua E quando la dici L'ascolti Bisogna Bisogna Per forza Vivere Il dolore Per Assaporare la gioia Per forza Altrimenti Non si può fare Non ti rendi conto Di cosa sia la gioia Se non hai sofferto Non Del tutto Non fino in fondo L'apprezzi di più Se hai sofferto La cosa che ti ha più ferito Nella tua vita Qual è stata? Buttarmi giù Non credere A volte è successo È successo Di Di Non credere più Nelle mie potenzialità Di non Di non Guardarmi più Allo specchio Come prima E perché è successo È successo Perché Perché l'ho voluto io Perché non hai creduto Abbastanza in te stessa Perché ti sei rivelata Più fragile Di quella Che pensavi di essere Assolutamente E la sua parte da una base Bella dura Bella strong L'abbiamo detto La montanara col tacco 12 Più di così E la fragilità Non hai imparato ad accettarle Anche un po' a coccolarla Esatto La fragilità Sto imparando Poi è una lotta quotidiana Tutti i giorni Tutti i giorni Si impara Non è che Quello che ho imparato Ah sì L'ho imparato E adesso posso andare avanti No Tutti i giorni Ricapito là Quindi ho imparato Ad accrezzare Le mie fragilità Senza averne più paura Che questa è una grande cosa Quando è l'ultima volta Che hai pianto? Ieri Per quale motivo? Vedendo mia mamma Su Erodello Fialdini Quelle cose lì Aprono il cuore Ti vediamo inviata La prima Una delle prime Forse la prima apparizione In Rai Come appunto Collaboratrice Inviata Guarda che luna Sono all'interno Della Certosa di Padula Dedicata a San Lorenzo Questo monastero Caratterizzato da Chiostri Giardini e Cortili E uno dei siti monastici Più importanti d'Italia Si trova all'interno Del Parco Nazionale Del Cilento e Vallo di Diano Dove inoltre È possibile visitare Tanti altri meravigliosi luoghi Antonio Ma che ci fai in giro Anche qui? Elisa Io non resisto senza di te Posso farti da guida Per l'ultima volta? Ti prego Dimmi di sì Altrimenti mi chiudo qui dentro Secula seculorum Secula seculorum Esagerato Ma non c'è più la clausura Più che altro Mi aiuteresti ad aprire Le 320 stanze Con questa chiave? Volentieri Ma che si vince? Chi lo sa Chi cerca Trova E cerchiamo Cerchiamo Non l'avevo più visto da quel giorno Tutto ora E anzi Ti dirò di più Devo ringraziare Stefano Coletta Lo devo ringraziare Direttore di Reuno Scusate Perché grazie al fermo Perché poi è così nella vita Questi sono Il nostro lavoro è fatto di corse E di stop Ma se non butti via lo stop E guardi quello che hai fatto E lo assimili Vai avanti Quindi grazie veramente Per quello che mi ha dato Senti ma ho visto che stavate in un convento di clausura Mi dicono che hai fatto la chirichetta Tanto per tornare sul maschiaccio Perché non c'erano abbastanza maschi Non c'erano abbastanza maschi A Monterossograna diciamo Non c'erano abbastanza maschi E quindi ho sostituito i maschietti Ma i chirichetti con te com'erano? Cioè sta bella ragazza Arrivava insieme a tutti i maschietti Era una bimba Sei anni Sei, sette, otto Poi mi hanno promossa il salmo responsoriale Quindi leggevo dopo un po' in chiesa Ho fatto anche il rivela Facciamo un giochino Sette vizi capitali Ira Avarizia Invidia Superbia Gola Accidia e lussuria Quale senti più tuo? Confessati Ah vabbè Gola sicuramente Vabbè ma Era banale Strabioli Vedo Strabioli Banale sì Perché a volte siamo anche usciti a cene insieme Ehm Non Avarizia assolutamente no Ira Ira Sì Invidia Ogni tanto No invidia no Non la pratico Non la pratico perché ne ho paura Quindi No non la pratico La temo Senti gola Sappiamo quanto ti piace cucinare Tant'è che appunto Sei stata cuciniera La prova del fuoco E a distanza anche di tanti anni Vediamo il 2018 Questa è la prova del fuoco Andiamo a cucinare Escamone Sì Perché l'escamone è una carne magra però tenera Ma vai con le mani E che ci permette No Ma scusa Se posso ben volentieri Questo pomodoro Che pomodoro è? È un bellissimo pomodoro Tondo Grazie È un bellissimo pomodoro Tondo A grappolo E quindi questo è perfetto Per la preparazione Del pomodoro ripieno Sicuramente sì Perché? Perché è tondo Regolare Ed ha ovviamente Un ottimo sapore interno E quando mangiamo l'aglio Una volta si faceva Con il vino rosso Perché il tannino Smorzava un po' Quel no? Perchè L'ogusto di aglio Che si porta poi ancora Per tre giorni dopo E infatti questa bagna cauda Non riviene Si può benissimo mangiare E poi alla sera baciare Nessun problema Si può mangiare E la sera baciare Vabbè Vedi Questa è la ricchezza Della Rai Si affrontano vari temi Io la chiamo Università della Rai Perché lo è È così E quindi Come nasce la tua passione Per la cucina? Nasce da un tempo Molto lontano Mia nonna cuoca Lucrezia Che saluto Ciao Lucrezia Piccina Ehm Poi abbiamo aperto Un ristorante Abbiamo aperto Un ristorante Nel 2010 Per cinque anni È stato Un ristorante Che poi Io Diciamo L'ho amato tantissimo Perché usavamo Tutti i fornitori locali E quindi era un po' Dare spazio Alla cultura Del cibo Del posto È andato benissimo Faticosissima Come esperienza Mia madre Ancora ne porta i segni Perché comunque Un ristorante Ti avvolge E ti assorbe In tutto Però è stata Una bella esperienza Che poi mi ha portato A mettere un tassello In più Anche Nella crescita Senti Ma gli uomini Si prendono per la gola Vecchio detto Tu cosa cusci Vi siete conosciuti Che lui era segretario Della Lega Poi lui è diventato Vicepremier Ministro dell'interno Eccetera Matteo Salvini Ecco E oggi Quando ripensi a quella storia Cosa pensi Vi sentite ancora E fa ancora parte Della tua vita Allora ci sentiamo poco E quando ripensi a quella storia Penso Al fatto che comunque Che è andata bene così Che gli errori sono stati Da parte di entrambi Come in tutte le storie Ma la penso con serenità adesso Quindi Ti vedo Ecco perché C'è stata una storia molto importante Certo cinque anni Sicuramente è stato un grande amore Da parte tua E da parte sua Cioè si vedeva Che proprio eravate innamorati E poi quando Una storia d'amore finisce Noi ragazze Abbiamo sempre un po' l'idea Di dire oddio Potevamo fare in un modo diverso Tu hai qualche rimpianto Ne ho tanti di rimpianti Cioè ad esempio Ne ho tanti Ma sempre riguardanti appunto Il rapporto di coppia Ma avrei potuto esserci anch'io di più Avrei potuto parlare di più Avrei potuto affrontare Determinati argomenti Forse non ero pronta per altri Serena Tante cose Perché ad esempio dicevi No Mi stavo annientando nell'attesa Stavo appesa a lui Che cosa vuol dire L'attesa di cosa? Ecco questa è un'intervista Fatta un po' di tempo fa Poi vedi che andando avanti Ma certo Si ripensa a tante cose Però sì Continuo a dirlo Perché io pensavo appunto Che lui Che le colpe Forse era fresca Quell'intervista Che le colpe fossero Più sue E invece no Perché io potevo Attendere in modo diverso Probabilmente Tu cos'è che aspettavi Tu cos'è che aspettavi da lui Quello che si aspettano tutte le donne Però non ero pronta Quindi vedi C'è un po' una sistemazione Un matrimonio Sistemazione Sistemazione C'è niente di male però Elisa No non c'è niente di male Io penso in generale Lo dico perché Non ero pronta Non ero pronta Ecco perché Dico mancavo anch'io In alcuni aspetti Quindi lo volevi Ma in realtà era modo Per puntare i piedi Può essere Perché ti vedo Secondo me tu sei una Che si deve fare come dici tu Ma sì Lo ero Adesso magari Sarei più Sarei più matura Sotto questo aspetto Però era proprio così Era proprio quella fase lì Della vita Perché succede Poi peraltro tu Essendo figlia di divorziati Magari ti aspettavi Una favola Che non è facile avere Nella vita È così? Non è sempre facile Perché non ci siamo Solo noi due Nel senso La coppia Ci sono anche altre cose Ma è giusto E la vita È il totale della storia Di ognuno di noi Quindi Più si va avanti E più si capiscono Tante cose Ti è capitato di dirglielo Di parlarne Mette fredda Della propria storia Perché è bello Delle volte Ti piacerebbe parlarne Magari anche per Magari Io adesso sono tranquilla Risolta E quindi perché no Non ti penti di nulla Nemmeno di quella Famoso selfie Quando vi siete lasciati Di pezzo Che mi chiamò Un'amica di mia madre In Germania Dicendo ma che succede Che succede in Italia Esatto Sì è arrivato anche in Alaska Quel selfie Mi hanno chiamato Anche gli eschimesi Sì probabilmente Ma guarda Posso dirti Se non fosse È stata fatta Quella cosa lì Non avrei adesso Modo di dire Quello che sto dicendo Quindi va bene Com'è andata Cioè non avresti chiuso Definitivamente Non ho capito Può essere Si è servito Per dire stop Quello è stato Sicuramente una cosa Che proveniva Dalla Diciamo Dalla Dalla rabbia Di quel momento Perché si può dire Perché si è arrabbiati Quando finisce la storia Perché è sempre Comunque un fallimento E quindi mettere Degli stop A volte È necessario Il come lo si mette Il come Il come si mettono questi La modalità È discutibile Può essere discutibile Questo Questo lo dico Però Va bene così Anche quelli Peraltro ci medesimiamo Tutte Cara Elisa Perché tutte Abbiamo avuto Stole d'amore importanti Che non siamo riuscite A portare a termine Succede Però grazie Fa parte della vita Grazie È la prima volta Che ne parlo Così In modo sereno Pensa che per un periodo Avevo anche stoppato Le interviste Per due anni Quindi pensa Quanto è potuto essere Importante per me Questo percorso Ed essere qui A parlarne con te In modo sereno Che poi Io dico sempre Che i personaggi famosi Fanno bene a parlare Anche delle loro fragilità Perché poi ripeto Tutte noi ci medesimiamo Con voi E quindi È utile Per un punto Per chi soffre per amore Sappiate che poi passa Giusto? Ma sì Passa Per quanto si possa Parmale Parlatele con voi stessi Perché è giusto A te chi ti ha aiutato Più di tutti Ovviamente la mamma Ma chi ti ha aiutato Di più Mia mamma c'è stata Poi la zia Gabriella Devo dire che Ha fatto un gran lavoro E tutti E tutte le persone Che ancora ci sono Perché le altre Se ne sono andate Col vento Ah sì eh? Sì Cioè chi se ne è andata? Eh Le persone che ci sono Sono quelle che Quelle vere Perché se no ti sei lasciata Un po' potente Quindi puntini puntini Ma non solo per quello Anche perché io ho un bel carattere Voglio dire Quindi chi resiste Ma provi mai un bel carattere Descrivimilo questo carattere Sono Dicono eh Perché non è bello Parlare di se stessi Me ne vergogno un po' Dicono che sono Vibrante Vulcanica Quindi Poi a ognuno La propria interpretazione La sua interpretazione Va bene così Va bene Poi basta vederti Nel bene e nel male Che Dio ti benedica Avrebbe detto mia nonna O Totò anche no? Che Dio le benedica Esatto Senti Sei pronta per un nuovo amore? Importante? Ta ta Non c'è la musichetta Non lo so Non so così bene Eh ma guarda È un problema Quando uno sta troppo bene da sola Però eh Vero? Un po' sì Perché c'è Un problema Non è vero Va benissimo Però poi dopo Dice vabbè Sto così bene da sola Perché devo riaprirmi? Per riaprirsi Bisogna anche Avere il bisogno Guarda lì Devo parlare con la Marzano Aspetta un attimo Devo rileggere i suoi libri Allora ce lo ridici E poi ritorno Va bene Rivediamo te Te Raimondo Dai la coppia Che ha fatto sognare Dai Tanti Te per prima Te per prima Mi piace Mi piace No No che poi No che poi Sì Che poi non sono così forte Poi se le tiro fuori troppo Non va bene Ma no Dai Dai Ti sei innamorata sempre a prima vista Oppure l'uomo ti deve conquistare No ma che No no L'uomo E qui È testa L'uomo è testa C'è niente da fare Uomini intelligenti Sappiate quello che dovete fare Sappiate anche che la ragazza Non è che le mette i piedi in testa Giusto? Sappiate anche che la dovete rispettare Dovete avere cura di lei Senza starle troppo sopra Giusto? Andiamo allo specchio Guarda Posso portarti con me Va bene Faccio la tua Insieme se Quando vuoi Faccio la tua Tu fai questo preludio E poi arrivo io Uno, due, tre Attenzione Ecco qua Altro che braccio Come capire le fanciulle Come capirsi Ne abbiamo passate tante Tesoro mio Queste palle qui dietro di Natale Ce l'hai a casa tu? Adoro Me ne dai una che mi fa Quale vuoi? C'è Sarremo C'è Ci sono le tartarughine Da Sanremo Dai che questo porta bene Anche per il prossimo Sanremo Dai qualcosa Qualcosa faremo a Sanremo Speriamo che si faccia Insieme? No io figurai Io posso stare giusto sotto A fare così Ciao ciao Con la manina Queste sono terapeutiche Mia mamma le adora Ah si eh? Io pure ce l'ho a casa Vediamoti Con Diciamo due diversi look Perché noi ragazze Quando Abbiamo una complessità Cosa facciamo? Tagliamo i capelli Vediamo Mamma mia che brava Sono ritornata all'ovile E sei ritornata Come ti piacciono di più I capelli lunghi o corti E quando le hai tagliati Che cosa vuoi comunicare? Dimostrazione di forza Quando li ho tagliati Perché noi Il capello lungo Per le donne È una Questione anche Un po' di sicurezza Il capello lungo È femminile Il capello lungo È attraente Eccetera Quindi Zack Subito Quando dovevo dimostrare Che ero Cioè Le hai tagliati Per dimostrare a qualcuno Che non avevo più più Di lui No A me stessa A me stessa Il taglio Il taglio è una Beh Dietro un taglio Diciamo Il capello corto La donna si sente Forse meno sicura È banale Quello che dico? No Ok Io non ho mai tagliato Perché da me sono uno specchio Del barriere Uno può parlare De quello che vuole Assolutamente Io per me Guarda Io sono una volta Nella vita L'ho tagliato i capelli Corti Ma No E invece tu avresti un viso Tu hai un viso Di dama del settecento Vermeer Tu sei un Vermeer Che carina Grazie Sono anche Guarda La figlia di Rubens Un ritratto della figlia di Rubens E somiglia Poi sono esuberante fisicamente No Insomma Ci capiamo Ma Non sei buona Sei Sei buona Non sei esuberante Andiamo Guarda Pino Come ride Meno male Pino Vuoi aggiungerti? Non posso Ma perché non andiamo a cena in tre? Andiamo a cena in tre Guarda Cenare con la Isoardi E come ballare Non ho dubbi Non ho dubbi Flamboyana Fuochi d'artificio Ma è vero Siamo stati anche paparazzati Tu e Pino Hai fatto il bravo Pino Mi hai dato un bacio Ci siamo baciati È scappato il cane Non c'era ancora il covid Dice Hai scappato il cane Di tutto Non ve posso lasciar solo Un attimo Provai a seguire i capelli corti C'è qualcuno nella tua vita Che porta i capelli corti La mamma Eh sì Mi hai dato un po' di cestellare Che mentire non può Miliardi di segnali Che accendono l'immensità Dove tu lo sai che poi mi perdo Colpo basso Serena Ma perché ti commuove la mamma? Mi commuovo Allora Mia mamma Quando soffre una figlia È la mamma che soffre Io mia mamma non l'ho sentita per un po' di tempo Quando stavo giù E Soffrivo ancora di più Perché dicevo No tu non mi stai vicino Tu non mi vuoi bene Invece era proprio Impotente in quel periodo Perché io ero Arrabbiata E quindi non E lei ha fatto la cosa migliore Mi è rimasta vicino da lontano E quando la vedo Mi commuovo perché Perché non posso averla qui Nonna non sta bene E quindi è giusto che lei stia accanto a nonna Che è in una casa Dove la guarda Dove la Le stanno vicino Più accudita In modo Ma quando è successo questo momento di caduta tua? È successo È durato un po' È recente? Sì Un po' di tempo fa E quindi ogni volta che la vedo Penso a cosa A cosa non le ho detto A cosa A cosa le ho detto di brutto Le mamme sono così Le mamme Cioè di brutto cosa le hai detto? Che lei non c'era La cosa più brutta che puoi dire ad una madre Che non Che non c'è Non ti segue Che non Che non fa il lavoro di mamma Invece no No invece no Eri molto richiedente in quel momento Sì ero richiedente ma non ero accogliente Nel senso che non riuscivo a recepire E quindi lei ha fatto quello che meglio poteva fare Che era giusto fare Cioè starmi vicino da lontano E ma tu gliel'hai chiesto Vieni da me? Cioè tu Però se lei fosse venuta là Avremmo litigato sempre Quindi adesso lei Se dovesse tornare Tornerebbe vedendo l'Elisa che le piace Però insomma Hai elaborato un tuo percorso Sì sì Introspezione tanta Anche con una psicanalisi qualcosa Per questo ci sei tu Io non ho fatta tanta di psicanalisi No però mi ha aiutato tantissimo Non ho motivo Perché poter parlare così in televisione Dimenticandosi delle telecamere Ma anche da casa Era un appuntamento bello e lo è Ma guarda nuvolo Torna quando va Questa casa è la tua casa Puoi scegliere anche le porte Vediamo l'ultima clip Ed è un angelo Perché poi non parliamo mai Dei nostri amici Che assorbono tutto Perché lui ha visto tutto Lui c'era in tutto E lui c'è E quando gli vedo I peletti bianchi Sopra gli occhi Perché sta diventando Un po' vecchiotto Quanto ha? No hai sette anni Vedi che E c'è la voce Quella E quindi Anche a lui dovrei dire Grazie Scusami per tante cose Che poi hai detto Che è più un compagno Un po' un compagno Un po' un figlio È un surrogato Sono tutti i cagnolini Per noi zitelli Per me Per noi zitelli Super zil Super zingola Vedi che stiamo a problem Stiamo in buona compagnia Però siamo pronte Ad accettare i doni della vita Purché siano dei doni Giusto Elisa? Vero Il pupo lo vogliamo fare? Allora Ancora Strabbione Intervieni No scherzo No lo sai Sicuramente Ce l'hai il desiderio di maternità Perché poi non è È un desiderio Che uno può avere O può non avere Non siamo costrette Fortunatamente Non è una smania Nel senso che Sicuramente verrà Quando Mi piacerebbero Dei bimbi Non uno Uno no Sono sorella Quindi Ho vissuto con un fratello E quindi perché no È bello averne più di uno Adesso non ci penso Per adesso Spero che poi un giorno Di non pentirmene un giorno Però no Adesso non ci penso Ma sì Ma poi Le cose della vita capitano E noi ti auguriamo Che tutto il bello ti capiti Come in una palla Di dietro La rimetto a posto Grazie per essere stata con noi Torna presto Torna quando vuoi Perché sei oramai un'amica Di oggi è un altro giorno Saluto Ti saluto le belle signore Che sono qui Che sono stupende Vero? Grazie Li vedo sempre da casa È bello avervi Per come ha ballato L'ho chiesto sabato E per gli occhi fiammeggianti Veno male E se lo dice guru gigliola Ci possiamo credere Grazie di sei sordi E adesso Grazie Oggi è un altro giorno veramente Sempre Sempre E tu ne sei la propria